La recente possibile gestione degli asset di Sace da parte di BlackRock, uno dei più grandi gruppi di gestione patrimoniale al mondo e che attualmente gestisce circa 9,4 trilioni di dollari in asset, sta suscitando preoccupazioni in Italia riguardo alla crescente influenza delle istituzioni e finanziarie globali sui settori strategici dell'economia nazionale. Sace, gruppo assicurativo e finanziario controllato dal governo italiano attraverso il Ministero dell'Economia, rappresenta un asset chiave per la protezione degli interessi economici del Paese. La potenziale cessione della sua gestione a BlackRock sottolinea il ruolo dominante che il colosso americano sta acquisendo all'interno del tessuto economico italiano. BlackRock è già ampiamente radicata in Italia, con partecipazioni significative in aziende leader come Eni, Enel e Intesa San Paolo e ora punta a consolidare il proprio controllo anche nella gestione della liquidità pubblica e privata. Questo fenomeno si inserisce in un contesto internazionale in cui le principali istituzioni finanziarie globali stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nelle decisioni strategiche dei singoli Stati, spesso a scapito della sovranità economica nazionale. La partecipazione di Larry Fink, amministratore delegato di BlackRock, a eventi di rilievo internazionale come il G7 italiano dello scorso giugno, dimostra chiaramente la portata geopolitica della sua influenza. Questo accresciuto coinvolgimento pone interrogativi sul futuro controllo delle risorse economiche italiane e sulle decisioni chiave che riguardano il loro utilizzo. L'espansione di BlackRock in settori strategici deve essere considerata come un ulteriore passo verso una crescente colonizzazione economica del Paese, dove i confini tra pubblico e privato diventano sempre più indistinguibili.